La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto da inizio anno 15 lavoratori regolari, di cui 8 stranieri, sanzionando 10 diversi datori di lavoro e sospendendo 4 attività in ragione dell'accertamento impiego del personale in nero in misura superiore al 10% del totale delle maestranze regolarmente assunte. Gli interventi hanno riguardato attività di ristorazione, servizio all'agricoltura, commercio ed edilizia. Il primo accertamento è avvenuto proprio a capodanno con la scoperta di un lavoratore in nero addetto al servizio ai tavoli in un ristorante che aveva organizzato un cenone. Altri due sono stati trovati nei controlli condotti in occasione dalla recente fiera Extracon, mentre sei sono stati individuati nel corso delle verifiche operate a carico di mezzi commerciali in transito. Un lavoratore regolare è stato scoperto in un cantiere edile di San Vito al tagliamento e altri cinque braccianti, tutti stranieri, sono stati trovati nelle campagne del San Vitesse. Nel corso del 2023 sono stati 156 gli interventi condotti dalle fiamme gialle del Friuli occidentale a tutela del mercato del lavoro, conclusisi con la scoperta di 229 lavoratori in nero, 23 lavoratori regolari e con la verbalizzazione di 140 imprese, di cui 59 sospese. Domenica 11 febbraio in tutta Europa si celebra il 112 Day, la giornata europea del numero unico per tutte le emergenze. Dunque la protezione civile del Friuli Venezia Giulia organizza un Open Day, dando la possibilità ai cittadini di visitare la centrale operativa di Palmanova, dove vengono raccolte, gestite e smistate le chiamate di emergenza. Lo ha reso noto la stessa protezione civile, precisando che il 112 Day è un'opportunità per conoscere il funzionamento del servizio stesso e osservare il lavoro degli operatori della sala operativa di primo livello del numero unico di emergenza, che operano 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, rispondendo alle chiamate dei cittadini destinate a Carabinieri, Polizia di Stato, Vigi del Fuoco, Emergenza Sanitaria e Capitaneria di Porto. Saranno organizzate visite di un'ora, dalle 10 fino alle 16 gratuitamente, ma a prenotazione obbligatoria attraverso Google Forms. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 9 febbraio alle ore 15. Un incontro molto fruttuoso che ha confermato la stretta collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS nell'utilizzo di treni storici anche in prospettiva di GoGo 2025. Lo ha riferito l'assessore regionale all'infrastruttura e territorio, Cristina Amirante, a margine dell'incontro avvenuto a Roma con il direttore generale di Fondazione FS italiane Luigi Cantamessa e i vertici dell'ente, volto a valutare la possibilità di mettere a disposizione di Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura 2025, una serie di collegamenti ferroviari realizzati con carrozze e treni storici. Grazie a tutti!